Sono un minore residente a Pagani ed un altro 17enne residente nella provincia di Torino i due italiani colpiti dalla misura cautelare della permanenza in casa, eseguita oggi dalla Polizia di Stato a conclusione di un'operazione internazionale coordinata da agenzie europee, che ha permesso di smantellare un network denominato Sturmjager Division, attivo in almeno sei paesi europei, Belgio, Lituania, Croazia, Romania, Germania e appunto l'Italia. Per gli inquirenti, in Italia l'indagine è stata condotta dalla Digos di Torino e Salerno ed è stata diretta dalle procure per i minorenni con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, i rappresentanti del network estremista erano pronti anche a commettere atti violenti. Sulle chat che utilizzavano per diffondere contenuti razzisti e xenofobi come il ricorso ai simbolismi d'aria, tra cui la svastica e il sole nero, erano stati pubblicati veri e propri manuali per l'attacco e il sabotaggio delle infrastrutture critiche, nonché istruzioni per la fabbricazione di armi, in particolari bombe molotov e sostanze chimiche corrosive. In questo contesto gli internauti hanno mostrato inclinazione all'odio, si legge nella nota in cui si dà notizia dell'operazione, ed erano disponibili anche a commettere reati nel nome delle ideologie professate a colpire ebrei musulmani, chiunque fosse considerato di razza inferiore. Nel nostro paese l'attività investigativa della Digos e della Polizia Postale ha portato alla perquisizione dei due minori, transitati inizialmente all'interno del network e in seguito fuoriusciti per aderire ad un altro gruppo Telegram di medesima matrice. Dall'ulteriore sviluppo dell'attività d'indagine sono emersi nuovi elementi a carico dei due indagati in merito alla pericolosità della loro propaganda, una vera e propria ossessione per gli attentati di natura suprematista, al fastidio per gli immigrati, nonché all'avversione per gli ebrei. Il Tribunale per i minoreni di Salerno e Torino hanno per questo disposto le due misure cautelari della permanenza in casa. Grazie a tutti.